Una discussione sfociata in rissa e degenerata in un accoltellamento fuori da un night a Vicenza. I fatti risalgono al 6 febbraio. Tutto nasce da un diverbio tra un gruppo di militari statunitensi, distanza all'Ederle, e l'altro composto da pregiudicati locali. In quell'occasione un 22enne, residente nel Padovano, era stato accoltellato, taglio che gli aveva provocato la lesione alla milza, ricoverato al San Bortolo e giudicato guaribile in 30 giorni. Le indagini condotte dalla squadra mobile Berica, con la collaborazione del Comando Investigativo Criminale americano, hanno chiuso il cerchio, permettendo di identificare ed acquisire elementi indiziari di responsabilità nei confronti di sei giovani, tutti tra i 20 e i 23 anni. Quattro soldati americani e due cittadini italiani sono indagati in quanto ritenuti responsabili per il reato di rissa aggravata e quattro americani anche per lesioni personali aggravate. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di tutti e sei altrettanti decreti di divieto di accesso ai pubblici esercizi, non potranno accedere ai locali notturni di Vicenza per un anno.